Sì, è un'iniziativa che sta avendo, devo dire, sempre godendo di maggiore attenzione da parte intanto di una realtà politica mista e questo è molto positivo. Di questo si sta interessando lo stesso Governo e per la verità guarda con attenzione a questo anche la struttura informativa del Senato. Che cosa si propone? Si propone sostanzialmente di aprire il Parlamento, lo dice la parola stessa. Tu Parlamento, vuol dire che il Parlamento possiamo davvero concepirlo come un luogo nel quale evidentemente si elaborano proposte programmatiche e progetti di legge, nonché emozioni e quindi intenti e dichiarazioni, ma tutto questo può essere non solo la luce del sole e quindi essere messo nelle condizioni di essere visto e letto subito o anche in corso addirittura di esecuzione dai cittadini, ma essere addirittura proposto da Costoro e contribuire a migliorare dal punto di vista dell'efficacia progettuale quella che poi diventerà legislazione italiana.